Vediamo ora, come anticipato prima, la Casa delle Vestali, o Atrium Veste. Qui ci passa la Via Nova, che in età repubblicana usciva dalla porta Mugonia, che forse si trovava qui, davanti al portichetto medievale antistante alla Basilica di Massenzio. Da qua la Via Nova si dirigeva verso il velabbro, tagliando obliquamente l'attuale Casa delle Vestali. Ma il discorso su questa via lo continuiamo dopo. Allora, come la reggia, anche la Casa delle Vestali cominciò con una capanna, intorno al 750 a.C. La capanna, di forma ovale, è stata trovata dall'equipe di Carandini, con i suoi focolari, i piani di cottura, i buchi dei pali, i ricettacoli per i cereali. Sono inoltre emersi i pezzetti di ceramica, databili anch'essi all'VIII secolo. La capanna è stata scoperta e subito reinterrata, per evitare danneggiamenti irreparabili. Come accennato prima, gli archeologi hanno trovato anche il muro perimetrale che delimitava il santuario, anch'esso dell'VIII secolo. Il muro è stato trovato sotto il vicus veste e accanto a un grosso strato di semi di farro bruciati che ricopriva il vicus in tutta la sua lunghezza. I semi di farro bruciati rinviano alla pratica della mola salsa, da cui deriva il termine immolare. Le vestali, infatti, bruciavano questi semi per farci una polvere che veniva cosparsa addosso alle vittime sacrificali. Nel tempo vi furono ben 14 rifacimenti della casa delle vestali. La prima monumentalizzazione ci fu nel VI secolo, intorno al 530-520 a.C., con la costruzione di un edificio in blocchi di cappellaccio. E, come successe per la reggia in età repubblicana, la forma di base rimase la stessa nel tempo. Ecco la ricostruzione prospettica da Nord. Nella sua fase tarda, la parte centrale dell'edificio era costituita da un grande cortile rettangolare, circondato da un portico colonnato a due piani. Al centro del cortile vi erano tre bacini, due quadrati più piccoli alle estremità e uno rettangolare al centro, che più tardi, forse in età costantiniana, fu sostituito da una struttura ottagonale in mattoni, che probabilmente faceva parte di un'opera di giardinaggio. Ecco i resti del lato est, visti dal palatino. L'edificio attuale è in mattoni. Sul lato est c'è un grande ambiente, detto impropriamente tablino, fiancheggiato da tre stanze per lato, probabilmente quindi era una per vestale. Augusto, divenuto pontefice massimo nel 12 a.C., trasferì nella sua casa sul palatino, che analizzeremo più in là quando parleremo appunto del palatino, la sede del sacerdozio, e quindi donò alle vestali gli ambienti dell'antica abitazione del pontefice del Rex Sacrorum, ovvero la Domus Pubblica, i cui resti sono probabilmente quelli visibili nel settore nord, sotto delle moderne tettoie, e sono databili a prima del grande incendio di Nerone del 64 d.C., poiché poggiano su un livello più basso e hanno un diverso orientamento, che è est-ovest. Così questi ambienti entrarono a far parte della triunveste. Nella pianta del foro la Domus Pubblica è identificata dal numero 8. Questo è il lato ovest, vedete il tempio sulla sinistra. L'incendio neroniano distrusse gran parte della città ed anche il tempio e la casa delle vestali, e così ci fu una ricostruzione a un livello più alto, che è quello attualmente visibile. La forma e le dimensioni rimasero uguali, ma mutò l'orientamento, a nord-ovest e sud-est. Nerone, approfittando dell'incendio, fece degli interventi regolarizzatori per l'urbanistica. Uno dei suoi interventi fu quello di regolarizzare il percorso della già citata Via Nova, che è stata identificata nella via che passa fra la casa delle vestali e i palazzi imperiali del Palatino ai piedi di essi. Abbiamo detto prima che la via repubblicana tagliava invece obliquamente l'attuale casa delle vestali. Tracce della più antica Via Nova sono state forse trovate a sud del primitivo Atriumveste. Dopo la fase neroniana ci fu un rifacimento di questa casa delle vestali databile all'età di Traiano, quindi tra il 98 e il 117 d.C., e poi ancora un rifacimento all'epoca di Settimio Severo, e quindi contemporaneo all'ultimo rifacimento del tempio di Vesta. Al di sopra della più antica casa c'era un boschetto sacro a Vesta, il Lucus Veste, che dal Palatino scendeva verso la Via Nova. Questo boschetto è ricordato da Cicerone, e lo abbiamo già detto nella prima lezione, il quale racconta che da questo boschetto, nel 390 a.C., una voce divina rimasta inascoltata avvertì i romani dell'imminente invasione gallica. Successivamente a questo dio, che fu chiamato Aius Locutius, ma forse a identificare con Fauno, fu dedicato un sacello. Poi, forse, il luogo di culto di questo dio fu inglobato nella casa delle vestali. Nel cortile della casa, al di sotto del portico colonnato, si disponevano numerose statue delle vestali massime. La vestale massima era la decana del collegio. Molte statue basi sono state trovate ammucchiate sul lato occidentale del cortile, forse pronte per essere trasformate in calce. Infatti, nel Medioevo, il marmo che veniva bruciato nelle fornaci per farci la calce, siccome non si aveva molta cura delle opere d'arte antiche, veniva presa a questo scopo anche da statue, e addirittura anche da pezzi di forma urbis, la pianta marmorea di Roma realizzata sotto settimio severo. Infatti, un frammento di forma urbis severiana è stato rinvenuto nei pressi di una fornace in via delle Botteghe Oscure. Tornando a queste statue delle vestali, alcune sono state portate al Museo Nazionale Romano e all'Antiquarium del Foro, altre sono state lasciate sul posto, ma la loro collocazione è casuale, visto che non si conosce l'originaria posizione. Inoltre, le statue non corrispondono alle basi. Le iscrizioni che identificano le vestali appartengono tutte all'ultima fase dell'edificio, quindi a partire dall'epoca di settimio severo. La più antica è inerente a una vestale massima del 201 d.C., la più recente è del 380. Particolare è il caso di una base, datata al 364 d.C., posta sul lato sud vicino alla scala che sale verso il palatino, sulla quale il nome della vestale è stato cancellato, ma si distingue una C come prima lettera. Si è dunque ipotizzato che si tratti di Claudia, una donna ricordata da un poeta cristiano del IV secolo d.C., la quale abbandonò il sacerdozio delle vestali per farsi cristiana. Il suo nome sarebbe stato così cancellato in segno di infamia. A quell'epoca, comunque, ormai il paganesimo era agli sgoccioli. Con l'imperatore Teodosio, infatti, a partire dal 380 ci furono degli editti che misero fuori legge il paganesimo in favore del cristianesimo proclamato religione di stato. Nel 394 ci fu la sconfitta definitiva degli ultimi campioni del paganesimo e allora la casa delle vestali fu abbandonata. In parte, essa fu rioccupata da funzionari della corte imperiale e poi da funzionari della corte papale. Grazie.